Nell'ambito di un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Pescara, di Chieti e dei colleghi del NOE è stato portato a termine nelle ultime ore un maxi sequestro di rame in un'azienda di rifiuti speciali nel Chietino, denunciate tre persone con l'accusa di gestione illecita di rifiuti e ricettazione in concorso. Recuperate 30 tonnellate di rame e sequestrati macchinari, il valore d'affari dell'azienda superava i 100.000 euro. È stato effettuato un blitz insieme al nucleo operativo ecologico di Pescara e dai colleghi della compagnia di Chieti. È stato effettuato questo accesso in un'azienda autorizzata al trattamento dei rifiuti ma appena siamo entrati ci siamo trovati in una situazione contabile assolutamente inverosimile per cui abbiamo approfondito e quindi la verifica è stata eseguita presso un'altra azienda il cui amministratore è sempre lo stesso dove ci siamo diventati di fronte ad una situazione assolutamente irreale in quanto a fronte di circa due tonnellate di rifiuti plastici che dovevamo trovare abbiamo trovato un quantitativo 10 volte superiore. Sono stati inoltre trovati otto tonnellate di rame e anche queste ottenute dalla lavorazione dei cavi che non risultavano da nessuna parte. Sono stati denunciati l'amministratore e sono stati denunciati i due operai. Inoltre vista questo immenso quantitativo di materiale plastico che si ottiene appunto dallo scioglimento dei cavi è stata fatta un'ulteriore attività appresso le abitazioni private e in questo caso con grande sorpresa abbiamo trovato all'interno di una pertinenza erano conservati c'era una stalla vi rappresenta una stalla e abbiamo trovato a fianco al trattore anche altre sette tonnellate di guaine di plastica.